Emily Ratajkowski c'è dal topless, il suo scatto è più sexy che mai Un nuovo, ma classico, scatto per Emily Ratajkowski, la bellissima modella americana che non vede l'ora di incantare e stupire con i suoi scatti sexy Ecco un topless sensualissimo in diretta dal Marocco, terra già caldissima che lei, con il suo charme incantevole, rende ancora più otto Emily Ratajkowski, arriva un altro topless dal Marocco? Non si smentisce mai, e perché dovrebbe, Emily Ratajkowski è fatta per colpire, stupire, incantare il suo pubblico e lei continua a farlo, pubblicando uno scatto sexy dopo l'altro, senza fermarsi mai Ecco un nuovo topless, un simbolo sensuale che per lei significa molto più di un semplice gesto hot, tutte le volte che sfoggia il suo meraviglioso e naturale decoltè indesciabile, Emily rimarca il suo diritto ad esibire, come e quando vuole, la sua iconica sensualità e femminilità Il motivo? Troppo sexy, nello specifico riferito A quanto pare, proprio alle dimensioni del seno Troppo grande? La risposta della Ratajkowski è stata perfetta, le tette? Sono un meraviglioso aspetto della nostra femminilità e dovrebbe essere celebrato ha spiegato in un'intervista alla 26enne Insomma specifica chi se ne importa se sono fatte così? Sono splendide sia quando sono grandi, sia quando sono piccole Ma poteva un commento di questo tipo fermare l'inarrestabile Emily Ratajkowski? Assolutamente no, ovviamente, e anche dal Marocco, dove si trova per prendere parte a meravigliosi shooting fotografici visti gli scenari condivisi su Instagram, decide di rimarcare ancora una volta il diritto di ogni donna alla bellezza e alla schiettezza delle curve Ed eccola qui, splendida, in piedi accanto a un'altissima porta d'arco acuto, in stile orientaleggiante e fiabesco Ma la vera favola è lei, Emily, che apre il sipario sul corpo, quasi, nudo, indossando un semplice paio di slip bianchi e un cardigan blu lungo fino ai piedi, decorato con arabeggianti stelle dorate Emily Ratajkowski, secondo Topless in pochi post Cambia solo il colore dello slip, da bianco a una nuance castana, ma dal Marocco sono già due i Topless di Emily Ratajkowski, un paio di post prima di quest'ultimo, infatti, la ragazza si era scattata una foto senza veli, almeno per quanto riguarda il décolleté Aggraziata e sensuale come solo lei sa essere, Emily copre delicatamente il seno con un abbraccio davvero hot, mentre guarda sensualmente verso i suoi follower La location, in questo caso, è meno fiabesca rispetto al palazzo marocchino che la ospita per splendidi shoti, ma in ogni caso parla di una certa armonia Lara Tajkowski è sul terrazzo, seminuda, appoggiata alla parete e nascosta, anche se debolmente, da una pianta rampicante che si affaccia sull'apertura del balcone I fan ne sono in delirio e, visto che il suo viaggio in Marocco si sta tingendo di toni davvero caldi, non vedono l'ora di seguirla nei prossimi scatti sexy I fan di un'altra pianta I fan di un'altra pianta